Cresi economica e tra poco verrà tolto anche il sussidio del reddito di cittadinanza. La situazione non è facile per quelle famiglie vastesi che vivono in situazione di indigenza, ma qual è effettivamente la situazione dei poveri a Basto? Quali sono i numeri? Lo abbiamo chiesto all'assessore al sociale del comune Nicola della Gatta. Basto risponde pienamente a un trend nazionale. Abbiamo di fronte una situazione in cui si coagulano diverse situazioni decisamente negative per la socialità, nella fattispecie per la povertà, il contrasto alla povertà. Da una parte l'aumento dei prezzi, quindi il caro bollette, dall'altra la conseguenza del reddito di cittadinanza e della sua riformulazione. Infine il fatto che noi all'indomani della pandemia abbiamo visto tutti i valori della socialità in termini di, anche per esempio, evasione e dispersione scolastica, piuttosto che di accesso alle forme di sostegno per le unità familiari o per i singoli cittadini, un aumento di richieste, un aumento di richieste vertiginoso, soprattutto nello scorso anno 2022 sulla base del 2021. La media generale è quella di un incremento del 12% dell'accesso agli strumenti di beneficio e di primo intervento e quindi per esempio la commissione sussidi e sono domande che molto spesso aiutano i nuclei familiari a fronteggiare l'impossibilità per esempio a corrispondere le bollette oppure le visite mediche. Dal punto di vista invece dei dati rispetto all'accesso al reddito di cittadinanza, noi abbiamo un incremento che talvolta, soprattutto negli ultimi mesi del 2022, ha fatto registrare un aumento del 20% sulla base dell'anno precedente. Ora non significa, questi sono dati che sono in nostro possesso, ma come sappiamo il reddito di cittadinanza viene gestito anche, soprattutto nella prima parte, nella prima fase dell'Inps. Questo significa che dati ovviamente non solo del comune di Vasto, ma dell'intero ambito del Vastese e quindi che comprende i 9 comuni di cui Vasto è ente capofila. È una situazione che al momento è gestibile, la preoccupazione è per la ricaduta che il caro bollette piuttosto che gli strascichi della situazione pandemica, piuttosto che la situazione delicata a livello di inserimento lavorativo delle strutture industriali del territorio, tutto questo insieme potrebbe comportare un sobbalzo a livello generale e noi dobbiamo essere in grado di riformulare le iniziative di sostegno e da questo punto di vista sono orgoglioso che per esempio questo ambito sociale all'interno del piano sociale distrettuale noi abbiamo deciso di sancire un passaggio che è quello dal sostegno economico alla forma di sostegno e inserimento lavorativo. Sul reddito di cittadinanza qualche parola va spesa, essendo noi l'unico comune, uno dei pochissimi quantomeno comuni d'Abruzzo che ha attivato quel disegno normativo in tutta la sua interezza, quindi non solo nella prima fase cioè sostegno economico ma anche nella parte dell'inserimento e quindi all'attività lavorativa per una finalità sociale a livello pubblico e quindi i cosiddetti progetti PUC, progetti di utilità collettiva. Va sono attivati sei persone che devono a livello e quindi a vasto efficacemente si propongono di riportare alla comunità il beneficio economico che attraverso il sostegno reddituale viene loro accordato. Se quel disegno di legge, quella legge fosse stata applicata totalmente, io credo che anche questa nomea di sostegno al Sussidistan per intenderci, sarebbe quantomeno nei fatti rispedita al mittente. Ora la preoccupazione è per la riformulazione normativa, di ieri la notizia che c'è questo nuovo sistema che è quello del MIA, cioè la misura per l'inclusione attiva, aspettiamo cosa farà il Governo, io credo che abbia il Governo ben presente questo innalzamento, questi indici di incremento delle situazioni di disagio e non vorrei che ad esempio le strutture di cosiddetto primo soccorso, che sono poi le strutture della Caritas, piuttosto che i servizi sociali in genere, debbano assistere a un incremento ulteriore nei mesi prossimi quando verranno meno questi strumenti di sostegno.